Fare i cittadini sia il modo migliore di esserlo. Con questo slogan è nata ad Agropoli l'associazione cittadinanza attiva che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. La parola d'ordine è perché non accada ad altri. Il ruolo dell'associazione è denunciare carenze, sopprusi, inadembienze e agire per prevenirne il ripetersi mediante il cambiamento della realtà, dei comportamenti, l'applicazione delle leggi e del diritto, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili, affinché i cittadini siano consapevoli dei propri poteri e delle proprie responsabilità per far crescere la democrazia, tutelare i diritti e promuovere la cura quotidiana dei beni comuni. Cittadinanza attiva si occuperà di salute con il Tribunale per i diritti del malato e il coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici, nonché il coordinamento regionale delle associazioni dei malati cronici rari e disabili, politiche dei consumatori e servizi di pubblica utilità con i procuratori dei cittadini, giustizia con giustizia per i diritti, scuola con la scuola di cittadinanza attiva, cittadinanza europea con Active Citizenship Network, valutazione della qualità dei servizi dal punto di vista dei cittadini con l'Agenzia di valutazione civica. A coordinare i lavori tra le singole problematiche, Teo Monaco, mentre Maristella Buonora si occuperà di giustizia. A Pietro Funicello e Anna Barbara Kubit il compito di seguire il Tribunale dei diritti del malato. Saranno organizzate inoltre una serie di iniziative di promozione e partecipazione. Chiunque sia interessato e voglia aderire all'associazione può contattare i coordinatori al numero di telefono 331-324-3334.